L'umanità veramente non crede, ride, paga, perché loro hanno in mano le armi, loro sono nel silenzio, loro hanno sempre ragione, loro possono colpire come vogliono, a nome dei potenti di questa gerarchia, è soltanto che bisogna subire, è un'onda, come fosse la radio o la televisione, che c'è un'onda che entra alla radio o alla televisione, questa è un'onda che colpiscono la gente. Grazie